Ben tornati su Pokémon Ranger, ombre su Almia E non è un gioco di parole quando dico ben tornati Perché lui si chiama Ben Ok, evitiamo queste cianciate e iniziamo subito le missioni di oggi Perché le missioni? Perché questa giornata, o questo episodio, è incendato sugli incarichi Ranger potresti aiutare per favore? Da quando ci sarà quel terribile incendio non ho più visto combi da queste parti Anche se ce n'è uno un po' più in là, ma cazienza I combi sono molto generosi, mi devono sempre un po' del loro miele Per favore, potresti portarmi un combi? Ovviamente, era per questo che vi ho detto di procurarvi un combi Grazie, l'apprezzo molto, le solite combi si raccolgono il miele nella foresta di Vienne Spero che non vi sia successo niente a caso di quell'incendio Dunque Allora, i combi si trovano appunto nella foresta di Vienne, nella seconda schermata in alto Quindi, vecchietta Ah, abbiamo già finito la missione, che bello, eh Oh, caspita, ciao combi Quel tremendo incendio ti ha spaventato? Oh, hai del miele per me? Sei sempre così generoso Tecnicamente questo combi è femmina Vabbè, pazienza Grazie mille, Ranger Questo miele mi permetterà di preparare dei biscotti per le vienibotina Ah, biscotti al miele, buoni Ok E abbiamo finito la missione Una piccola chicca Ogni volta che è finito l'incarico, già lo sapete Abbiamo Una ricompensa e la musichetta E Se non erro La ricompensa Vabbè, questa frase non la leggerò tutte le volte Comunque Abbiamo la conferma, l'incarico Di solito I dati di potenziamento Riguardano in qualche modo La missione Quindi Ok Ho detto una stupidaggine Divisi elettro Perché? Ah, giusto Perché lo shock del mangiare i biscotti al miele Così come Milton che mangia l'erba Vedrete che riuscirò a trovare qualunque collegamento volete Dunque Dato che non appaiono gli incarichi sulla mappa Possiamo vederli da qui Ne abbiamo da fare Altri tre Allora Ok, signor Guardaboschi Perché mi ricordo che c'era un incarico del signor Guardaboschi Abbiamo due Pokémon appositi Presi apposta per Questo incarico Ossia i due Eroselia Allora Gli altri invece non servono adesso Se non sbaglio Cioè possiamo anche andarci dopo Comunque Guardaboschi Devo chiederti un favore Stamattina sono andato alla foresta di Vien Per raccogliere della legna Come al solito Io ho dato la stessa voce di Strambic Ma pazienza Uguale Mi sono imbattuto in alcuni tronchi Che bloccavano il passaggio Penso che siano garuti a casa di quel terribile incendio Ho fatto quello che potevo per scomprere il passaggio Ma a certa età Non me la sento di eliminare i tronchi Puoi farlo del posto mio? Ovviamente signor Guardaboschi Siamo dei ranger Ah, così farò un vero ranger Appunto Se mi ricordo bene i tronchi di eliminare sono due E i tronchi si possono eliminare solamente con La mossa ostacolo taglio due E indovinate un po' i miei Eroselia cosa hanno Taglio due Ah, ho fatto benissimo a prenderli Per chi non sapesse se vi trova in Eroselia Potete controllare nel navigatore O nella parte precedente Oppure ve lo dico semplicemente io Sempre foresta riviene Seconda schermata a sinistra Non possiamo ancora fare questo incarico Perché già ne abbiamo uno È un peccato che non si possono accettare più incarichi insieme Davvero un peccato Però in questo modo vi aiutano a concentrarvi Su di un unico incarico Qua proprio sta combi se non sbaglio Ehm Non è qua Però Allora Appena riesco a trovare i tronchi Eccolo qua Uno Vero taglio due Sì Taglio due Adesso vi faccio anche vedere dove sono i combi Perché se non erro c'è un tronco Non qua sotto Ma Sopra Non vorrei dire una stupidaggine Ma Se la mia memoria non mi Non mi inganna È sopra E vi ricordo che questo gioco è un ultimo gioco Da quanto? Da tanto tempo Ne resta ancora uno Allora Potrei catturare un picciu Per ricaricarmi i punti vita dello styler Ma Come vi ho detto La vita dello styler È Non serve ricaricarla Perché ogni volta che siete di livello Vi si ricarica la vita direttamente Via E Ogni vo Insomma È inutile E qua sotto per caso tronco? Non credo proprio Allora avevo proprio ragione Sopra Spero almeno Ehm Questa meno vi faccio vedere i combi E Vai via Tilo Non ti voglio catturare Eccolo qua Vi faccio vedere dove si trovano appunto Roselia e combi Perché così Evitiamo stupidaggini Cioè evitiamo che Mi chiedete Oh ma dove sono? Roselia e combi E poi Non li trovate Pazienza Preferisco fare così almeno Era l'ultimo No ancora no Devo far vedere dove sono i roselia eccetera Allora Watch all Non mi interessa Allora Un roselia Se non erro È qui Qua c'è un weasel E diciamo roselia Poi mi serve uno con distruzione Ecco qua il combi Tutti quanti stanno qua Quindi potete catturarne tre E finire la missione In tre secondi Letteralmente Adesso mi servono Tre pokemon Con distruzione Uno E Vediamo se mi ricordo le missioni Cosa riguardano Allora Tre pokemon con distruzione O due o tre pokemon con distruzione Uno E poi basta E poi basta Scusate Wow Questa parte è molto breve Davvero molto breve E Il problema è che non la voglio fare Troppo breve Mi inventerò qualcosa Penso di Sì 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 posso fare una certa cosa Sì posso fare un'altra cosa carina Quindi adesso finiamo gli incarichi Prima il dovere E poi il piacere Di continuare la missione Allora se non erro è qua L'ho visto prima Quello degli Eccolo qua Sono preoccupato Per la spiaggia Zephyra Ma vedo che te ne stai già occupando Ah ovvero Scusate Ah sì ho capito E brando Vero Ah no ciao a questa federazione Ricordati che poi Ah lo so Mi sono confuso Ok Perché non esistono Dei walkie talkie O dei cellulari Signore guardaposca Abbiamo tagliato la legna Ah perfetto In carico completato a distanza No Non esistono i cellulari Ma ci sono dispositivi Per catturare pokemon Ah Hai tolto le mezze tronchi Bene bene Grazie mille Scusate un secondo Ok non ci sentivo Adesso sento meglio Adesso Vediamo che collegamento Riesca a fare Abbiamo ricevuto la conferma Ci stiamo inviando Dei dati di potenziamento Vediamo un po' La scossa elettorizzante Di biscotti Vabbè Ok Linea lunga Perché lungo è meglio E adesso La linea dello styler Leggermente più lunga Affiratevi che questo È uno dei potenziamenti speciali I potenziamenti che io Considero speciali Sono appunto Quelli blu Quello lungo che vedete Che non è tanto speciale Ma vabbè Ve lo spiego dopo E quelli viola Quelli viola Sono Un must Secondo me Dovete prenderli per forza Sare benissimo Se li prendete Adesso Spiaggia Zephyra Ah Già che ci sto Vabbè Mentre vado Della spiaggia Zephyra Ho catturato Qualche poca Ma comunque Ve lo dico Intendo E poi anche Non credeci Ma sono proprio Arrabbiato Ultimamente il mare Ha depositato Dei cassoni di legno Sulla spiaggia Zephyra Penso che siano Stati buttati In mare Da una nave cargo O qualcosa del genere Danneggiano l'ambiente E rovinano l'aspetto Della spiaggia Anche stamattina Ne sono arrivati un paio Luizone Le ha fatte a pezzi Con le sue mani E si è portata La legna a casa Ovviamente Ti trovi di cassoni Della spiaggia Ti può occuparne Ok Me ne occupo Me ne occupo Sapevo che avresti Diretto di sì Ecco Adesso qualcuno Appassionato di Penso di giochi fantasy Mi può dire Da dove viene Allora Questo è l'inizio Di una host Che sto cercando Come un maniaco Ma non riesco a trovare Tipo fa E poi continua Penso che sia Di un gioco di Zelda Qualcosa del genere Ma Non può essere Zelda Skyward Sword Non può essere Il gioco di una saga Tales Perché E' più famosa Di quello Credo E non lo so Qualcuno mi ha Mi ha dato una mano Perché la sto cercando Come un maniaco Non è di bravery default Può essere di un Final Fantasy Può essere Non lo so Se qualcuno lo sa Per favore Me lo dica Oh Lo so Non lo farò più Però Sto cercando aiuto Nessuno delle persone Che conosco Lo sa E quindi Sono leggermente disperato Ok Cosa bisogna fare adesso Potete fare un paio di cose Oh Oh cos'è Oh C'era dentro un pezzo di carta Sopra c'è scritto qualcosa Ok Io so che c'è scritto Ma Non lo posso leggere Leggerò solamente Quello che C'è scritto Anche quella Escrivendo le cancellature E per favore Non scrivete Quello che c'è scritto qua dentro La nazione Odio gli spoiler Giga Tipo 8 U Pro O T O Co Re Ro E Ne Ia F O Il resto del testo è leggibile Perché sono cancellato Dall'acqua salata Ah Era solo una cassa Ok Beh immagino che ora Mi tocchi dirti grazie Se avrebbe salvato la spiaggia ranger Eh Parlo in un modo troppo impertinente Eh Abbastanza Sì Forse per questo la tua ragazza Ti ha lasciato Tanana 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 Ok Vediamo che razza di collegamento Riesco a fare Ok Assistente Vi ho ricevuto la conferma Blablabla E basta Ok Regezione del potenziamento 2 3 Chiudi E Difesa normale Perché Abbiamo utilizzato un Vito Per disfacere la cassa Non lo so Qualche collegamento Strano lo farò Comunque Le difese riducono di 3 I danni Poi ovviamente La linea lunga Avete visto Allunga la linea di cattura Di un quarto Un quarto Un secondo E sono curioso Credo sia Styler Sì Eccola Allunga la linea di cattura Di Uno Due Tre Di un terzo Scusate Dovrebbe essere circa Un terzo E quindi Siamo a posto Ah non era il fidanzato Di questi due Si sono rifianzati Questi qua Ho fatto pace Con la mia ragazza Quello che si Ok Ok Ha rifatto Ha fatto pace Con la sua ragazza Buon per lui Ok Dobbiamo andare a fare L'ultimo incarico Che è il più Non mi viene da dire Facile Ma è il più facile Dobbiamo sempre Diciamo di andare Al villaggio ciccole Mi sa che la parte Finirà qua Lo so che dura poco Ma come già sapete Io divido i video Divido i video Per argomenti Anzi no Posso continuarla Posso continuarla Perché non serve per forza Fare un argomento Specifico Qua Ranger puoi aiutarmi? Puoi andare a indagare Sul ponte vicino all'accademia Vi consiglio degli strani versi Per venire da sotto Il ponte Mentre giocavamo Non ci tratta di un pokemon Ma i miei amici Per sapentarmi Dicono che ho uno spettro Sarebbe terribile Ci trattassi davvero Di uno spettro Puoi controllare? Ovviamente baby Sì Quello si chiama in carico Vero? Ovviamente baby E quindi bisogna Semplicemente andare In un posto Se non erro Non bisogna neanche Catturare il pokemon O lo spettro Credo O forse sì Non lo so So che pokemon è Ma non so Se devo catturarlo o no In ogni caso Già l'abbiamo catturato Quindi Sì Si sta a posto Insomma Troppo bellissima Troppo bellissima Sì L'utilizzo dell'italiano Proprio alla perfezione È troppo bella La Suoneria L'audio Le host Non mi viene il nome Le host Di questo gioco Però questa qui Delle strade Non osare Non mi piacciono così tanto Quelle delle città Sono stupende però Ok Ecco qui Non è il resto Di un pokemon Qui intorno Girano molti spettri L'idea che possa essere Un fantasma Fa proprio paura Ok Non dobbiamo catturarlo Allora Aveva ragione Era un floatel Ovviamente Se non si era capito Eccolo qua Floatel Ok Ciao Vedi Non mi hanno fatto Una spettro Certo che no Ti stavo Stavo prendendo un giro Scusa Ti dispiace Per averti spaventata Vuoi essere la nostra amica Eh Sì certo Allora una piccola cosa Verrete quella nota musicale Colorata che si è alzata in cielo Fidatevi Fidatevi Vi servirà Sapere Cosa è Ma non ve lo posso spiegare adesso Eh 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 Grazie per averci Stai mia in carica Ora se non è divisa Divisa acqua Non so che dire Comunque Stavo dicendo Sì Quella nota musicale Tenetela ben a mente Ve ne parlerò più in là Perché non possiamo ottenere Quella nota musicale adesso La di potenziamento O un qualunque cosa Che sblocchi Quella nota musicale Comunque Difesa acqua Appunto Perché abbiamo salvato Un floatel Perché abbiamo visto Un floatel Non lo cattureremo Per un casino di tempo Quindi Ignoratelo E andremo avanti Ok Adesso andiamo a fare La missione principale Penso che la parte diventi Di quanto 5 minuti più lunga del solito Si avverrà di 25 minuti Ma Qual è il problema Anzi Voi di solito mi chiedete Parte più lunga E quindi Penso che vada bene Andiamo subito Ah no aspetta Dannazione Vabbè Continuiamo l'avventura adesso Perché se no Brando Un secondo Devo controllare Se ho finito gli incarichi Cerca di aiutare Che io quella abbiamo bisogno Sembra tipo Il sergente maggiore Qualcosa Ok Tutti gli incarichi presi E Brandon Finito con il giorno Di patoglia Si Bellissimo Per un po' Avevo molto da fare Meno tutti i ripari Se vuoi Il giorno Il giorno seguente Giusto No Però mi sono ripasato Per 5 minuti Dunque Tonks Ti sento in forma Abbiamo appena ricevuto Notizia dalla Federazione Ranger Il professor Frenese È tornato ora al suo viaggio E sta venendo qui Per esaminare quella strana macchina Vedo che ci fate Nella foresta Le viene Ti assicuri Che il professore Non si sia perso Ok Fidatevi Non è niente di che Basta uscire E avete fatto Non è una missione Principale Per questo Che non vi assieme Della missione A proposito 3, 2, 1 Frenese Ed ecco qui Il vero detentore Della voce di Strambik Non so chi ebbe Quell'idea balzana Ma quella sciocca barriera Sulla scogliere vedetta Chissà cosa speravano di ottenere Ma un'effimera cosa Si rivelò Un toio qui Un colpo là E cadi a pezzi Come se fosse fatta Di stuzzicadenti Un facile esercizio Ecco cosa fu E quella viola A un sacco Come la sua proposta Di scortare in volo Fino alla città di Vienna Sul suo Staraptor Viola e Staraptor Ricordatevi per molto tempo Cioè Ricordatevi lì Per una cosa Che verrà tra molto tempo Risapere bene Quanto io deteste Il solo pensiero Di volare Insinuò Forse provocarmi Intendeva Tuttavia Su di lei Sta la beffa Camminare senz'altro più salubre Che cavalcare creature Per ogni dove Ovviamente La mia impazienteratura Sempre a correre Più che a camminare Mi porta Basta E tu che saresti mai Un ranger per caso E forse tu norma Orecchiare Quel che si Quel che un attempato Figuro Come Oddio Attempato Comunque Oh aspetta Ora ricordo Ti distinguessi Il tuo giorno di prova Sicché hai ottenuto Il diploma Dell'Accademia Dei ranger E il ranger diventasti Sono il professor Frenesio Della federazione ranger Piacere di fare La tua conoscenza Presto Ora corriamo Al centro ranger E' una cosa Terribile per la gola Ma fidatevi Se ve la fate riposare Prima per 5 ore Ossia senza Mormorare Dovreste stare a posto Per tutto il tempo Insomma Sicché questa sarebbe La strana macchina Oh aspetta un momento Mi di qualcosa del genere Da qualche parte Di recente Finaco Finaco Che cavolo Vabbè comunque Ma certo Vedi il medesimo Il geggio a Portena Portena Durante il mio viaggio Per arrivare qui Una cosa Portena E' già stata citata Prima Dalla sorella di Allegra Dalla sorella di Leo Ossia Allegra Ecco Già Fu proprio a Portena Che vedi Uomini trasportare Macchinari come questo Ricordo di averli visti In difficoltà Con uno di essi Per possibilmente Per il suo peso in mare E ricordo che Luizona ne può portare Due sulle spalle Ripresi Perché siete della posta Ma sbagliate A quanto pare Assun Abbisogniamo Abbisogniamo di qualcuno Che vada a investigare Immediatamente a Portena Eccoci qua Gente Questa è la missione D'emergenza Luna 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 Tonks Andate subito Andate sulle tracce Vabbè Si capirà E ovviamente Ci andiamo Nella prossima parte Comunque La città di Portena È giù sotto All'altra parte Della foresta Ripieni Appena Dientro la città Trovete una struttura Ranger Chiamata stazione Ranger La volete ricaricare E' praticamente La stessa cosa Di questa stazione Ranger Solo che è più piccola Quelle strane macchine Non sono per niente Benvenuto In quella Bella città di mare Fate qualcosa Prima che sia troppo tardi No Oddio Vedete Non serve neanche curarsi Io già sono curato qua Questù Essere infimo Non servi Ci vediamo Nella prossima parte Di Pokémon Ranger L'Ombra su Almia Dove non vi saluterò Con un Ben Ben Venuti Ma con un semplice Ciao Ciao